Ieri a Palazzo Sant'Agostino la riunione di coordinamento dei comuni salernitani firmatari del progetto Archiocammino la strada reggia delle Calabrie. L'incontro, ha dichiarato il presidente Franco Alfieri, aveva lo scopo di condividere le linee guida di promozione e valorizzazione turistica dei territori della nostra provincia salernitana attraversata dalla strada reggia delle Calabrie e concordare le strategie di utilizzo delle risorse compatibili con questo progetto. La regione campagna infatti per riposizionarsi a livello nazionale e internazionale attraverso il programma annuale per il turismo 2022 ci indirizza a costruire progetti di rete sovracomunali che definiscano percorsi turistici integrati. Unire cioè patrimonio naturale e culturale ma anche nuogastronomia, turismo termale, ambientale, religioso, sportivo è una formula vincente per valorizzare i cosiddetti siti minori. Sicuramente è un progetto velleitario ma noi dobbiamo essere ambiziosi, visionari per incidere sulla qualità della vita. Nel contempo è necessario essere concreti perché il turismo lento necessita di percorsi che ognuno nei propri territori deve attivare. Noi come provincia di Salerno ci siamo se per esempio dobbiamo intervenire con un'adeguata segnaletica o se dobbiamo provvedere alla manutenzione prioritaria di alcune strade. A concluso noi mettiamo a disposizione ogni nostra competenza. Attraversando città e borghi minori dalla costa all'entroterra e poste ad altitudini differenti la strada regia delle Calabria è un vero e proprio museo del paesaggio e delle tradizioni. 260 chilometri da Napoli a Castrovillari tocca diversi comuni valdianesi. Lo scorso marzo a Roma c'è stata la presentazione del progetto frutto di un protocollo d'intesa tra Archeoclub d'Italia e i comuni interessati dal cammino che sono 44 tra Campania, Basilicata e Calabria. L'accordo prevede una serie di attività che mirano a valorizzare la strada che attraversa decine di comuni dalla profonda valenza storica, archeologica e artistica. Qua tocca Auletta, Polla, Atena Lucana, Sala Consilina, Padula, Montesano sulla Marcellana, Casa Albuono. È un'occasione importante per aumentare l'offerta turistica del territorio. La strada regia delle Calabria è un'antica via di comunicazione realizzata in epoca borbonica tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento e che ricalca in parte il tracciato della più antica via Popilia di epoca romana. Parte da Napoli e giunge a Reggio Calabria. Rappresenta una testimonianza storica delle infrastrutture e dei rapporti delle comunità del meridione d'Italia. Per la prima volta siti archeologici di epoca romana, centri medievali e beni culturali del Settecento e dell'Ottocento vengono riscoperti da Archeoclub d'Italia e inseriti nel progetto di turismo culturale chiamato Archeocammino, la strada regia delle Calabrie.